Noi dobbiamo pensare al nostro, dobbiamo pensare a giocare la nostra partita, a giocare bene, a fare le nostre cose, la nostra palla a volo, a essere aggressivi in battuta, ordinati in muro difesa. Poi vediamo come saranno loro. Tante volte quando c'è la prima giornata dopo l'esterno dell'allenatore le squadre reagiscono bene, altre volte male, non si sa. Loro sono una squadra che punta molto in alto, con un giocatore di grandissime qualità e che comunque hanno perso solo contro le beat per adesso. Si aspetta di più di loro proprio perché sono fortissime, ma secondo me stanno facendo comunque una bella palla a volo e un buon campionato. Io spero che continuiamo ad andare con la testa bassa, tranquilli, passo a passo e che continuiamo a pensare più a come giochiamo e al rendimento che offriamo in campo, che ha i risultati della partita in sé. Noi dobbiamo giocare bene, alzare il nostro livello, i risultati saranno una conseguenza di questo. Quindi spero di continuare nella stessa direzione. Se facciamo qualcosa di diverso o saremo sulla strada sbagliata. Grazie. Grazie per aver guardato đã vedere. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.